Un saluto amici del Centro Meteo Italiano, vediamo una prima tendenza meteo sull'estate 2018 che molti si staranno già domandando se sarà o meno come quella precedente. Iniziamo con il dire che l'estate dal 2000 in poi si sono sempre fatte più calde a causa del riscaldamento globale e il trend di caldo record è probabilmente destinato ad aumentare. L'estate 2018 sarà quindi nuovamente da record? Diciamo di no perché è assai improbabile se non impossibile avere ogni estate più calda della precedente. Insieme al riscaldamento globale ci sono poi delle forzanti che possono aumentare o diminuire i rischi di un'estate caldissima o da record. Il nino ad esempio come nel 2003 oppure la siccità primaverile come per l'estate 2017. Tirando le somme sarà probabilmente un'estate calda ma non caldissima né tanto meno da record. Inoltre anche le precipitazioni dovrebbero essere più apprezzabili rispetto allo scorso anno. Diciamo che in una scala delle stati degli anni 2000 al momento ci sentiamo di inserirla qui. In ogni caso si tratta di tendenze stagionali e pertanto vi invitiamo a seguire tutti i prossimi aggiornamenti per possibili novità sull'evoluzione. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.